Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, ben ritrovati qua nel solito usuale disordine della mia libreria. Allora, 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 mi rimetto un pochino in ordine con le richieste che mi sono state fatte. Come sempre tanta gente mi chiede Mike perché non parli di questo, Mike perché non parli di quello, perché non parli di quell'altro, eccetera, 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 eccetera. Va bene, mi metto un pochino in ordine con le richieste perché mi è stato chiesto di parlare di un aereo eccezionale, straordinario, fantastico, bellissimo, meraviglioso. Mi è stato chiesto di parlare di questo qui, lo riconoscete? Lo riconoscete? Il P-51 Mustang, la Cadillac dei cieli, uno dei più belli aerei di tutti tempi, indubbiamente uno dei più grandi caccia ad elica, uno dei più splendidi caccia ad elica che siano mai stati costruiti e progettati. Cioè, ragazzi, scusate se ve lo dico, la Cadillac dei cieli, guardate che roba, guardate che bello, quanto è bello! Eh? Cioè, Legendary Werebirds, questo libro, con le foto di, con le meravigliose foto di Luigi Cagliaro, è una goduria per gli occhi, siamo sinceri. C'è un, 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 un libro straordinario con immagini fantastiche. Cioè, guardate quanto è bello qui, Old Crow, guardate quanto è bello! Cioè, ragazzi, ci stiamo parlando di uno dei più belli aerei di tutti i tempi, ci stiamo parlando di uno dei migliori caccia ad elica di tutti i tempi, forse il migliore, il migliore in assoluto, un'arma risolutiva nel corso della seconda guerra mondiale, indubbiamente, bello, 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 veramente bello, di facile costruzione, una cellula eccezionale che trovò, come si suol dire, la, l'asso di briscola, con il passaggio dal motore americano Ellison al motore Merlin costruito su licenza in America dalla Packard. Cioè, un, un assoluto grande classico dell'aviazione, un aereo che ha fatto, come dire, che ha fatto storia, un aereo che è leggenda, un aereo che è universalmente considerato come uno dei più belli aerei della storia. Cioè, ragazzi, guardatelo! Cioè, non stiamo tanto a ciurlarne il manico, ma, signori, il Mustang è fantastico, il Mustang è bello, il Mustang è un signor caccia, la Cadillac dei cieli. Non può esserci altra definizione più azzeccata per il Mustang. Cioè, io non vi sto a fare la storia, perché tanto bene o male la conoscete tutti. Cioè, la sua progettazione per conto degli inglesi, la sua nascita come aereo da attacco al suolo equipazzato con il motore Ellison, il passaggio al motore Merlin che lo rese un autentico puro sangue e l'adozione del tettuccio a goccia, questo che vedete qua, a visibilità totale, che lo rese indubbiamente uno dei migliori e più riconoscibili e più iconici aerei della Seconda Guerra Mondiale. Aveva anche i suoi difetti, siamo sinceri, perché soprattutto a pieno carico, a pieno carico di munizioni e carburante, il Mustang era un aereo molto stancante da pilotare, che aveva, che soffriva di una certa instabilità laterale e che era piuttosto nervoso ai comandi, soprattutto, ripeto, col pieno carico di benzina. Era molto faticoso da pilotare. Il tettuccio a bolla in determinate condizioni trasformava l'abitacolo in un'autentica serra. Però, insomma, non credo ci sia altro da dire che, a proposito del Mustang, che non sia stato un protagonista assoluto della Seconda Guerra Mondiale, un aereo per il quale i superlativi giustamente si sprecano, cioè bello, eccezionale, elegante, straordinario, leggendario, mitico, favoloso. Io ho finito i superlativi per definire il Mustang. Ripeto, un aereo straordinario, una delle armi finali per la vittoria degli alleati nella Seconda Guerra Mondiale. Di più non credo assolutamente ci sia da dire. Era un aereo straordinario, stop, un aereo superlativo, un aereo fantastico, che nonostante i suoi difetti seppe anche tenere testa addirittura ai caccia-jet tedeschi. Perché, ricordiamoci una cosa, è vero che la maggior parte dei jet dei 262 tedeschi furono abbattuti in fase di decollo o atterraggio, quando erano pressoché indifesi. Ma diversi 262 furono abbattuti in volo proprio dai Mustang. I P-51 riuscirono ad abbattere in duello anche diversi Schwalb, diversi Meshesmi 262. Dite quello che vi pare. Erano pilotati da gente con le palle, erano grandi aerei, erano aerei superlativi. Il P-51 Mustang non può essere definito altrimenti. Era un grande aereo, un aereo eccezionale, un aereo straordinario, un aereo per il quale i complimenti non bastano mai. Ripeto, la sua leggenda ha fatto passare in sottordine i difetti che aveva, che erano quelli veramente di una certa pesantezza dei comandi quando si era a pieno carico. Un pilotaggio molto stancante e decisamente logorante per il pilota. Una manutenzione necessitava di molta manutenzione, tant'è che quando il P-51 entrò in servizio con l'aeronautica militare italiana negli anni del dopoguerra, né i piloti né il personale di terra dimostrò di amarlo molto perché i piloti italiani con la loro fissa per l'acrobazia non amavano un aereo che non era in grado di fare le acrobazie che volevano loro. Ma diciamo che quella è una falla della mentalità dei piloti della caccia italiana e dei piloti italiani in generale dell'epoca. Acrobazia, 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 acrobazia. Col Mustang le acrobazie non servono. Tu devi fare soltanto due cose. Dare manetta e sparare. Mentre i piloti italiani, sappiamo bene, soprattutto quelli formati durante la guerra, loro ci avevano la fissa per l'acrobazia. Ma il Mustang non è un aereo da acrobazia come il Machi 202 o il Fiat G55. No, era un aereo con il quale si doveva combattere e sparare. Stop! E ci riusciva magnificamente. Tutto qui. Quindi, cari signori, io non credo di avere altro da dire su un mito totale e assoluto dell'aviazione come il P-51 Mustang. Un aereo che, ripeto, ha fatto la storia senza sé e senza ma. Un aereo eccezionale, un aereo che è una delle icone assolute della Seconda Guerra Mondiale. Tutti conoscono la Cadillac dei Cieli e nessuno può negare che sia stato uno dei migliori aerei da caccia di tutti i tempi. E sicuramente uno dei migliori della Seconda Guerra Mondiale. Ci sono stati aerei più veloci, aerei più maneggevoli, aerei più potenti, aerei che lo superavano teoricamente in prestazioni. Ma in realtà, ricordiamoci sempre una cosa. Un aereo da caccia è un sistema d'arma complesso e deve essere forzatamente un compromesso. Velocità, potenza del motore, potenza di fuoco, autonomia. Un compromesso. E sicuramente il Mustang è stato, molto probabilmente, il miglior compromesso possibile tra tutte queste caratteristiche. Un aereo eccezionale. Ho sprecato i superlativi, ho finito i superlativi. Mi ripeto, è vero, ma nessuno, a parte i fanatici, può negare questo fatto qui. Mi si dirà, ah ma perché il TA 152 lo superava, ah perché c'erano caccia superiori. Non ho mai detto che fosse il migliore di tutti, ma era indubbiamente il miglior compromesso possibile. Robustezza, facilità di costruzione, velocità, armamento, autonomia. Un caccia deve avere questo. Stop. Fu grazie al Mustang che i bombardieri americani poterono colpire i loro bersagli sui cieli del Reich. Tutto qua. Quindi, cari signori, io, come sempre, vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci al mio prossimo video.